Grazie, proviamo a fare anche senza slide, vediamo se riesco a trasmettervi tutte a parole. La prima slide era la copertina di Catch Me If You Can, quindi prova a prendermi, film di Steven Spielberg, banalmente la storia è quella di appunto Franca Bagnale che riesce a scappare da falsario, quindi falsario troffatore, scappa per anni e nessuno riesce mai a prenderlo. Cosa voglio dire con questa metafora? Che il vino oggi, per i prossimi 15 minuti, sarà il nostro Franca Bagnale, noi cercheremo di capire come riusciremo a prenderlo nel prossimo futuro. Partiamo subito con una buona e una cattiva notizia. La buona notizia è che oggi di vino ne parliamo, ne parliamo 15 minuti, ma poi alla fine di tutto, non so se ve l'hanno detto, ma ci sarà un rinfresco con il vino. Questa è una cosa positiva. La seconda cosa invece un pochino meno positiva qual è? Che purtroppo, statisticamente, 9 su 10 di noi non capiranno abbastanza di vino per poterne goderne appieno. Perché questo? Perché in realtà il vino è un prodotto molto complesso. È complesso perché ci sono tante sfaccettature che lo rendono la distanza tra i consumatori normali e il prodotto molto lunga. Prima tra tutte è quella degli esperti. In realtà tanti aspetti del vino, che è una cosa interessante, vengono dalla storia e sono rimasti immutati per oltre 3.000 anni. Pensate che il primo esperto, cosiddetto sommelier, risale dai greci, quindi 3.000 anni fa, poi si è evoluto fino ad arrivare a una figura quasi mitologica al tempo dei Romani e si chiamava Laustores. Pensate che Laustores era l'unico che era in grado di dire che cosa si poteva bere all'imperatore e che tipo di combinazione tra acqua e vino, perché allora si beva solo mischiato ad acqua, si doveva fare in quella cena. Quindi era l'unico che poteva anche descrivere il vino con le sue parole e gli altri assolutamente dovevano solo assaggiare e annuire. Quindi pensate che neanche l'imperatore poteva scegliere alla cena che cosa far bere ai suoi commensari. Ovviamente è evoluta la figura dell'Austores e al tempo del Medioevo e poi del Rinascimento è diventata quella del coppiere ed era una figura talmente superiore rispetto a tutte le altre che addirittura c'era un decalogo che ci era rinvenuto pochi anni fa in cui si descrivono tutte le caratteristiche che deve avere un coppiere. Il coppiere deve essere giovane, deve essere di bell'aspetto, di bei modi e allegro. Ora, qualcuno dell'associazione ICE, dei sommigli oggi potrebbe ridire su alcuni di questi aspetti, però quello che era importante è che allora come oggi era una figura molto distante rispetto a tutte le altre perché era l'unica che poteva usare anche il lessico, che è la seconda componente particolare del vino, un lessico tutto particolare che non ha a che fare con il lessico che usiamo tutti i giorni. In slide c'era, se non c'è più, ma c'erano alcuni esempi per farvi ben capire qual è il lessico che oggi usiamo per il vino e non si usa in altri modi. L'esempio è tannico, il tannino. Se noi chiediamo ai nostri figli di 5 anni che cos'è il tannino, credo che nessuno abbia la minima idea di che cosa stiamo parlando. Forse si immagina degli insetti o qualcosa di strano, ma sicuramente non pensa all'effetto carciofo, per dirlo in maniera molto terra-terra, che è l'effetto che danno i tannini. Ci sono invece altre parole che noi usiamo normalmente, tipo caldo, che nel mondo del vino ha totalmente un significato diverso. Quindi quando un sommelier vi descrive un vino caldo, non bisogna pensare a vin brûlée, ma bisogna pensare a un vino molto alcolico. Ecco, di questi esempi ce ne sono veramente tanti e rendono il mondo del vino un mondo difficile da descrivere con le parole di tutti i giorni. Un terzo aspetto particolare del vino è che non ci sono brand riconosciuti che aiutano i consumatori normali, come tutti noi, a scegliere il prossimo vino. Già al tempo dei Romani c'erano 91 vitigni diversi e l'avevano scoperto da poco. Ad oggi in Italia siamo quelli che ne hanno di più, come spesso accade, e siamo a 250. Pensate che questo numero, che è già alto di suo, deve essere combinato con il numero di cantine che ci sono oggi. Cioè in Italia abbiamo 250.000 cantine che producono vino. Pensate che in Francia, che è il secondo più alto al mondo, ne hanno 80.000. Quindi se pensiamo che ogni cantina lavora il vino, lo stesso vitigno, in maniera diversa, perché usa un processo diverso, perché è solamente in una zona magari più calda, più fredda, abbiamo un numero infinito praticamente di combinazioni. In un mondo dove i brand praticamente non esistono, sono molto difficili da riconoscersi. Non esistono per esempio brand totalmente internazionali. Cioè in una cantina famosa in Italia è difficile che venga proprio riconosciuta, tanto in, che ne so, in Australia. Oppure la migliore cantina australiana in Francia non è proprio tanto riconosciuta. Mentre ci sono in tantissime altre industrie, tutti altri brand vengono riconosciuti praticamente a livello mondiale. Questo che cosa implica nella nostra vita di tutti i giorni? Che è difficile capire e farsi delle associazioni tra un brand che riconosciamo di alta qualità, trovare delle qualità, quindi buone o cattive in un certo vino, e provare a seguirle man mano con il suo brand. Un altro aspetto che non facilita la comprensione del prodotto è quello che sappiamo tutti dire ci piace o non ci piace in realtà, ma qual è la vera complessità? Che non riusciamo a scomporre gli elementi primari e capire qual è l'elemento che ci è piaciuto e qual è l'elemento che non ci è piaciuto. Se pensiamo ad un esempio che viene dal mondo del cibo, un piatto di pasta al sugo, tutti sappiamo dire inizialmente se ci è piaciuto o non ci è piaciuto, però riusciamo a fare anche il passo successivo, che è mi è piaciuto perché era salata giusta, era cotta giusta e magari c'era quel tocco di basilico che veniva dal campo ed era profumato. Quindi mi ricordo che quelli sono gli elementi che mi sono piaciuti e la prossima volta riesco a fare un piatto di pasta asciutta che sia buono, per come lo intendo io. Nel vino questo invece non è possibile, perché noi riusciamo ad avere le papille degustative sviluppate per scomporre il prodotto vino e riuscire a capire esattamente cosa ci è piaciuto e quindi ricercarlo man mano nelle successive. Quindi vi ho raccontato un po' qual è il problema del vino oggi e quanto è complesso e quindi come facciamo a raggiungerlo, a prenderlo finalmente, quindi a farlo diventare più terra terra, più raggiungibile, più democratico se vogliamo. Ci sono tre trend che stanno impattando tantissimi settori e che piano piano andranno ad impattare anche il vino, anzi io sono convinto che il vino sta già cambiando e cambierà profondamente grazie a questi tre trend. Il primo innanzitutto è quello della personalizzazione. Cosa significa? Significa che ognuno di noi può avere, nel nostro caso, il vino adatto a se stessi. Ha cambiato tanti settori, per esempio ha cambiato anche il settore della sartoria. La sartoria è un settore che stava, diciamo, man mano andando a scemare, c'era sempre meno gente che riusciva a farsi un abito su misura, perché i sarti erano sempre di più una professione in decadimento, sempre meno giovani vogliono farla. Invece, grazie alla tecnologia, una startup è riuscita a trovare un modo per far su misura gli abiti anche a distanza e grazie a loro e grazie ad altre startup, quindi il fatto di avere abiti su misura, è cresciuto sempre di più negli ultimi cinque anni. Nel vino questo cosa implica? Io credo molto nella personalizzazione, nella customizzazione dell'offerta per i singoli utenti. Significa che io credo talmente tanto che ho appunto creato una startup per cercare di aiutare tutti gli utenti a trovare il vino ideale per loro. Ognuno di noi, come detto, ha dei gusti diversi, quindi lo stesso vino può piacere tantissimo a me, ma non piacere assolutamente alla persona di fianco a me, e questo indipendentemente che sia buono o cattivo. Quindi la startup si propone l'obiettivo di proprio cercare di capire e di consigliare in qualsiasi situazione di cibo, di gruppo di utenti, eccetera, il vino giusto per quell'occasione lì. La seconda ondata di trend che sta cambiando tanti settori è quello del sharing, quindi della condivisione. Cosa significa? Ovviamente se pensiamo allo sharing, pensiamo a due esempi su tutti gli altri, che sono Airbnb e Uber, che ormai sono strausati da tutti. Ovviamente loro che cosa hanno reso possibile? Hanno reso possibile che oggetti o prodotti che prima erano difficilmente raggiungibili dalle persone normali, in particolare se pensiamo a Airbnb, una villa, un attico di proprietari e di privati, adesso è diventato raggiungibile anche da una persona che appunto non possiede quella villa e può avere l'esperienza di provare e starci. Nel vino che cosa implica questo? Implica che per esempio ci sono sempre più startup che cercano di unire utenti diversi che hanno magari una bottiglia o la vogliono comprare ma non se la possono permettere, per via del costo grosso e quindi cercano di unire queste persone e far sì che si incontrino e possano gioire, godere insomma della bevuta tutti insieme. Un altro elemento diciamo di sharing che sta aiutando molto, sempre per il tema di avvicinamento, è quello delle cantine. Quindi molto spesso, diciamo più in America, un problema molto americano, nelle grosse città si vive senti in appartamenti più piccoli, 20 metri, 30 metri quadri, senza la possibilità di avere una cantina, quindi senza la possibilità di poter mettersi da parte il vino e di berserlo dopo. Quindi ci sono delle startup che stanno cercando di fare sharing di cantine e quindi quando ci si hanno spazi available, disponibili, chi ha acquistato del vino lo mette in un'altra cantina e poi ci si fa lo scambio quando se ne ha bisogno. Terzo e ultimo trend che sta impattando molto e impatterà il mondo del vino è quello della digitalizzazione dell'esperienza. Cosa significa? È quello della virtualizzazione. Questo faccio un esempio perché così si capisce di più. Il mondo dell'architettura era molto statico, cioè venivano fatti i disegni su carta, poi quando sono arrivati i PC sono stati fatti sui PC, però era difficile per una persona non esperta immedesimarsi nella casa che si era stata progettata. Anche quando c'era lo spazio disponibile e ci si poteva entrare era difficile immaginare da carta a poi la realtà. Bene, grazie al 3D, questo oggi è più possibile, quindi l'utente si può immedesimare, può entrare addirittura nella casa del futuro, vedere come l'architetto l'ha progettata e capire se gli spazi gli piacciono, quale pezze di arredamento gli piace di più e quale gli piace di meno. E la stessa cosa sta accadendo nel vino. Cioè ci sono sempre più start-up che offrono la possibilità alle cantine di far vivere l'esperienza della cantina anche a persone che non ci sono mai state. Come? Potendo caricare su questo sito appunto il giro virtuale della cantina con la loro storia, con il loro modo di produzione, con le particolarità, con il fatto che magari loro la colgono solo alla luce della luna perché gli dà tutto un gusto diverso, eccetera. Questi sono tutti elementi fondamentali perché il vino in realtà è un po' come un prodotto artistico. Cioè non è... Immaginate un quadro astratto. Non riusciamo a capire... Cioè riusciamo a dire se ci piace o no, ma non riusciamo a capirlo fino in fondo, fin quando non c'è un esperto che ci guida a capire quali sono le particolarità, come è stato fatto, qual è l'accostamento pensato, che ci fa cogliere a pieno tutta la bellezza, comunque tutto il pensiero che ci sta dietro al quadro. Quindi stavo dicendo quella parte di virtualizzazione, grazie al fatto che le cantine possono mettere l'esperienza online, possono far sì che l'utente viva questa esperienza e possa avere un'esperienza migliore del vino e di quello che sta provando. Uno dei problemi appunto che vi ho raccontato era anche quello del lessico. Per esempio sul lessico è già un po' più complesso, nel senso che... Cosa stiamo cercando di fare noi? Noi abbiamo, nelle nostre gustazioni, abbiamo dotato tutti i partecipanti di una campanella, banalissima. Però questa campanella deve essere suonata ogni qualvolta la sommelier parla in maniera molto strana. Cioè quando parla in maniera tecnica si scampanella e la sommelier costretta ripetere lo stesso concetto tecnico in maniera molto semplice. Vi assicuro che funziona, nel senso che quando uno dice tannino e non lo capiamo si deve inventare un modo per farlo. Si deve dire avvolgente e magari uno non capisce avvolgente su un vino cosa significa, lo deve ripetere in modo che anche le persone normali possano capire che cosa lui vuole dire in termini tecnici. Ora io vi ho descritto quello in cui io credo e quella che è la nostra democratizzazione. Secondo me il nostro franca bagnale ci siamo vicini veramente a prenderlo perché il vino sta sempre diventando più un prodotto alla portata. Però se volete anche voi capire se ho ragione o meno cioè quanto voi vedete vicino questo fatto che tutti noi possiamo goderne appieno vi invito a venire alla degustazione che ci sarà appunto alla fine del TED e vedere di vostra prima view se vi piace o no e se quello che stiamo lavorando per rendere questo prodotto più vicino possibile funziona o meno. Grazie. Applausi Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Applausi Grazie. Grazie. Grazie.